Il Presidente Omat Il Presidente Omat Il Presidente Omat Lo chiamiamo Azzurro Vicenza se volete, diciamo che abbiamo voluto appunto richiamare qui un pezzo di storia ma non solo, riprendere anche in alcuni dettagli una serie di soluzioni stilistiche che danno appunto a questo prodotto una caratteristica di livello assolutamente al pari con le migliori squadre a livello europeo. Sì, naturalmente si tratta di tessuti tecnici di alto livello, magari due parole su questo per esempio. Diciamo che ovviamente questi prodotti sono disegnati per ricollegare, per riprendere diciamo una storia delle squadre ma sono fatte con le più moderne soluzioni tecnologiche, in particolare i tessuti che utilizziamo qui sono isotermici quindi riescono a dare diciamo una, a mantenere il calore del corpo umano sostanzialmente stabile, lungo il tempo di gioco, questo per consentire un minore affaticamento per i giocatori, una migliore dispersione del sudore e quindi una resa diciamo ancora più efficace durante il gioco. Una grande soddisfazione anche per voi dell'Otto Sport portare queste maglie ai grandi fasti del Vicenza. Diciamo che siamo qui perché crediamo moltissimo in questo progetto, ci fa ovviamente piacere stringere un'alleanza in Veneto con una squadra che ci auguriamo destinata a portare ai fasti dei migliori momenti questa città. Credo che grazie anche al Presidente Rosso, al gruppo che con lui vuole sviluppare questo progetto ci siano tutte le premesse per un risultato di prestigio che arriverà sicuramente dopo magari stagioni anche impegnative. Abbiamo visto comunque grande determinazione, grande voglia di fare e credo che i risultati non mancheranno. Apri il tuo tempo alla condivisione, dona il tuo sangue.